Era il 9 maggio 2019 quando scattò il maxi blitz della polizia di stato nel parco del colle del Pionta ed adesso arriva la prima stangata ai pusher che avevano scelto il rito abbreviato. Il gruppo del tribunale di Arezzo Angela Avila ha infatti condannato 12 imputati tutti di origine africana con pene che vanno da 4 anni e 6 mesi a 4 anni e 8 mesi per detenzione e spaccio di stupefacenti. Prevista anche l'espulsione una volta espiata la pena. Il PM Giulia Maggiore per loro aveva chiesto 7 anni ma il gruppo ha concesso le attenuanti generiche. Ha comunque vinto la linea dura della procura e della polizia. Nonostante i pusher fossero stati arrestati con modeste quantità di sostanza sono stati infatti riconosciuti colpevoli del reato di detenzione fino in dispaccio nella forma grave quella del primo comma e non in quella tenue. Un'interpretazione che adesso apre la strada anche ai prossimi giudizi. In programma il 25 febbraio quando sarà il turno degli imputati che hanno scelto il rito ordinario e il 10 marzo giorno in cui toccherà i pusher rinviati a giudizio ieri. Il blitz portato avanti con un dispiegamento di forse mai visto in città, elicotteri, cani antidroga e agenti sotto copertura era riuscito a mettere a segno un durissimo colpo alla rete di spaccio e consumo di sostanze superfacenti all'interno del parco del Colle del Pionta e Campo di Marte che si erano trasformati in un vero e proprio mercato a cielo aperto della droga. La squadra mobile allora guidata da Francesco Morselli documentò infatti una divisione del territorio ma anche le modalità operative e le singole attività di cessione. In manette finirono così una trentina di spacciatori quasi tutti ancora in carcere.